Bate lo spagnolo, cerca Koulibaly, Koulibaly al 90esimo, segna per il Napoli, ha segnato la formazione di Sarri, Juventus 0, Napoli 1. Ci crede Simeone, Simeone dentro l'aria, Simeone! Palla dentro, il colpo di testa, il gol! Il raddoppio, il raddoppio della Fiorentina, ancora Gio Simeone! Suggerimento di Chiesa, posizione regolare, Simeone, Simeone, Simeone! 3-0! E tripletta di Gio Simeone, si porta e la pallone a casa, Gio Simeone! A posto così, finisce con la vittoria 3-0 della Fiorentina sul Napoli in questa 35esima giornata di Serie A Team. Occhio qui alla conclusione, il gol dell'Ellas che pareggia, incredibile all'Armando Maradona! Ultima chance per il Napoli, sprecata dai partenopei! Chiude così il Napoli, delusione totale per la squadra di Gattuso, che pareggia una partita incredibile in casa contro un Elas già sazio, che l'anno prossimo giocherà in Europa League, avendo ottenuto il quinto posto in classifica. Ciao, volevo salutare a tutti i diposi di Toronto, sono contento per questa nuova avventura, volevo ringraziare la società e ci vediamo a luglio. All for one! L'Empoli, il primo a disposizione di Francesco, rompe il reparto Racmani, cercato Piedamonti! Non sarà due a tre a due, Piedamonti! Non lancia il Napoli, che crolla definitivamente al Castellani, butta via il doppio vantaggio, ritrova il successo L'Empoli. Calidu Koulibaly, from Napoli to Chelsea, here we go! Ma per me non è un addio, è solo una rivederci. Al prossimo episodio